Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia, egoismo che continua la tratta delle persone, la schiavitù più estessa in questo XXI secolo, la tratta delle persone è proprio la schiavitù più estessa in questo XXI secolo. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza legata al narcostrafico e dallo sfruttamento iniquo delle risorse naturali. Pace a questa nostra terra. Gesù risorto, porti conforto a chi è vittima delle calamità naturali e ci renda custodi responsabili del creato. Grazie. 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 Grazie.